Ciao a tutti, la Ternana ha vinto, si tratta della Ternana femminile che ha vinto per 5-0 contro il Tavagnacco grande vittoria delle nostre ferelle che si confermano essere così al primo posto grandissima prestazione delle nostre ragazze che al Gubbiotti di Narni hanno battuto il Tavagnacco per 5-0 per cui stanno andando molto molto bene come lo sono andate anche la scorsa stagione per il resto da domani riprenderanno gli allenamenti della Ternana maschile che dopo il pareggio di Cittadella affronterà il Brescia Libro Librati il 21 di questo mese per cui c'è un fine settimana di sosta a proposito di Ternana Brescia c'è un'iniziativa da parte della Ternana Calcio una promozione che è quella di offrire il biglietto fino ad esaurimento posti ai bambini delle scuole elementari che dovranno essere accompagnati da un genitore che avrà il diritto ad avere il biglietto al prezzo di 6 euro per cui dovrà esserci un bambino che entra gratis più il genitore che entra con il biglietto a 6 euro per rendere valida questa promozione in occasione di Ternana Brescia ovviamente il prezzo per tutti i settori dello stadio dalle curve ai distinti per cui c'è questa iniziativa della Ternana Calcio per il resto in chiusura vi segnalo alcune trasmissioni a Re Rosso Verde dove ci sarà anche l'ospite del presidente della Ternana Nicola Guida Sombri e Piucarale qui di città digitale del resto e streaming attraverso la pagina Facebook a Re Rosso Verde e Passione Rosso Verde 4 chiacchiere di Rosso Verde sulla pagina Facebook Ternana Live per il resto vi ricordo che la Ternana Vince si tratta di quella femminile che ha battuto con il risultato di 5 a 0 il tavagnacco a Re Rosso Verde